buongiorno a tutti voi e bentornati oggi vi presentiamo il manuale scratch l'abc della programmazione autore paolo di leo editore libri sandit il costo di questo manuale è di euro 9 90 viene presentato l'edito di scratch la programmazione prendere una decisione e gli operatori matematici grazie per l'attenzione e speriamo di esservi stati utili buona giornata e se volete potete iscrivervi al nostro canale grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti